Barbarano Mossano, un'auto con a bordo una coppia di quarantenne di Castegnero, viene sottoposta al controllo dai carabinieri. I militari trovano tre confezioni, un involucro e 101 bustine contenenti marijuana e più di 4.000 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato, mentre la coppia è stata denunciata per spaccio di droga. Le indagini proseguono per accertare la provenienza e la destinazione degli stupefacenti.